musica se salivamo sullo spot moriva in continuazione perchè e poi io comunque erano una nostra attenzione ma aspettavo che andasse solo da vicino invece non c'è chi cazzo ma la gente FIRST BLOOD oh 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 no you got wrecked motherfucker double tap oh i punti della bustazione non sono i miei e lì r2 col medio questo gli ho fatto headshot perchè mi ha sparato il mio no nice 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 con la mia 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 ferma c'aveva e lo coltello no mi lagga troppo sta partita anche a voi si mi lagga anche a me gris si voi c'ho 68 ciao 130 135 passate da sinistra passate da sinistra se non volete morire di chi qua sopra passo da sopra ehi paura è stato io sbagliati ho niente davanti non lo vedo vabbè le fatti tutti voi non lo ho dato dentro l'hard point rimane l'ultimo a porto fatti tutti a porto a porto perchè? eh l'ho appena l'ho appena preso ce l'aveva uno ma si vede tipo troppo bene no non ammazzavo nessuno no mi è sfuggito ce l'hai di dietro è one shot è one shot oh sinessa no no ah ma non era no il nostro c'è loro chichiro no lo fate il quick chi è che si è preso utile no non ci viene affatto con il rapido dove cazzo è questo? meno war devo sbloccare il fuoco rapido mamma mia quanto è forte quel fuoco rapido rimani sempre stabile stabile si basta che ci metti il drip l'ammazzita è back? aia non c'è non vedo un nemico non vedo un nemico ragazzi non vedo un nemico oh ho ho i got a rap oh diadro Aiuto Vai Raps Ammazza quello mid dog Oh questo Sì sì Guarda 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 quanti 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 Oddio Dove li rubati giù ci dove spaurano Ah sono in vetro Che rosicata Che rosicata I ponti Vedi per qui eh Mmm non ne vedo uno Comunque non è fluido sto gioco Non mi piace in fluidità Forse perchè è la beta Nooo È mia cassa Non te la prendo nella cassa Che ci sta dentro Counter War V Via riva No ma è una cassa bomba Ma che mi trolli Te giuro Ma è esplosa in faccia Oh i punti i punti i punti i punti fermi fatemeli prendere a me Raps È vero È vero il genito Si deve riluscito Mmm Fatto bene No Ci tessi Mi mancano i termici Ragazzi 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 Che sta a scoprire Combat focus ready Ragazzi 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 due da dietro levati oddio sta stricca è satanica vi giuro mi sei sbloccato? ok mi sei sbloccato ok ok madonna sono merda facciamo un tracca facciamo un tracca sta uno qui sotto povero rica ha fatto i punti oddio sono morto a 45 raga ha fatto 45 kill di fila pure in stream vero? si raga fammi i punti fammi i punti sennò finisce una manina raga 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 andate a fare i punti raga buttatemi nella hill buttatemi nella hill ok guardami a destra guardami a destra tu guardo mid io destra guardami a destra un fallo fuori dai non giochi arrivo spe che mi faccio a questo fado poi torno subito vengo su destra più tardi e andate i punti fate i punti sulla prossima entrate nella già nella prossima no sii no non c'ho colpi penso io qualcuno stia dentro mamma mia che schifo fortissimo la cappa mamma mia che arma sbroccata stai dentro stai dentro no 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 stai dentro wuuu cercherò un po' di gente con l'mo uuuu arrivo dai viva dai viva c'è il raso di oddio beheh ruinti mi fai proprio stufa il cazzo sono arrivato prima per 5.400 punti dopo che mi iniziò da vita dei che dei miei sono bellissimo buongiorno rovun nominal b stricografie nell'ora